Ragazzi, ciao a tutti dai Gobbo Toscano. Allora, oggi siamo a Cavriglia, a Cavriglia per farvi vedere un impianto pazzesco che è ancora in fase di costruzione ma è già avviato, è già funzionante, intanto oggi è una giornata e pare estate però qua abbiamo i spogliatoi, tutti i spogliatoi per il padel, qua ancora lavoro in corso, qua ci faranno delle tribune credo qualcosa perché vedo dei gradoni, qua campo da padel all'aperto, esterno, qua campo da padel, vedete un pallone immenso, al chiuso, al chiuso e poi venite vi porto a vedere il resto, vedete qua gli ingressi, tanta roba, tanta roba in grandissimi campi e poi abbiamo un'altra struttura pazzesca, pazzesca che è questa, vedete qua c'è il padel semi chiuso o semi aperto, definetelo voi, da giù c'è il baldacchino anche dello street food, qua è una zona pazzesca pazzesca veramente, un impianto di padel grossosi, non l'avevo mai visto, assolutamente è ancora in fase di di costruzione, però è già funzionante, quindi questo è, se vi va vi do info più dettagliate sul posto, questo è Cavriglia, provincia d'Arezzo, qua